Eccoci qui con un rapido unboxing delle Sony MDR-ZX100 Mini, direttamente comprate appunto da Amazon Italia. Ecco qui, un rapido unboxing per vedere il contenuto. Ecco qui, si presentano in questa maniera le cuffie. La colorazione è bianca. Powerful Sound. Sony dovrebbe essere una garanzia. Questo prodotto è recensito con 4.3 stelle su Amazon Italia su 5, quindi dovrebbe essere un ottimo prodotto audio. Ecco, vediamo. Però ovviamente a basso costo, perché sono reperibili al costo di circa 13 euro, quindi un costo piuttosto basso e alla portata praticamente di tutti. Bisogna dire che però sembrano essere abbastanza comode e performanti. Ecco le qui. Le proveremo ecco successivamente.